ciao sono giovanni bosca riol e da quest'anno anch'io farò parte del corpo docenti della scuola cento per cento musica di roma mi occuperò del corso di pianoforte e tastiere nel quale potremo approfondire gli aspetti della tecnica esecutiva allo strumento della lettura della partitura l'ear training e quindi la decodifica sia da un punto di vista musicale che da un punto di vista sonoro di ciò che ci viene normalmente chiesto di preparare partendo proprio dai brani affronteremo gli argomenti quali sintesi campionamento la storia degli strumenti musicali elettronici che vedremo da vicino e tutto ciò che abbiamo oggi a disposizione come tastieristi per poter fare al meglio il nostro lavoro ci occuperemo anche delle sequenze audio delle backing tracks che ormai fanno parte integrante di qualsiasi tour che andremo ad affrontare io spero di vedervi numerosi vi saluto e vi aspetto ciao